Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Il Grande Fratello 2024 accoglie una nuova concorrente che promette scintille, Federica Petagna, già conosciuta per la sua partecipazione all'ultima edizione di Temptation Island. È pronta a varcare la celebre porta rossa della casa più spiata d'Italia il prossimo lunedì, 28 ottobre. Federica, giovane nail artist campana, si è recentemente distinta per aver intrapreso un percorso di crescita personale che l'ha portata a rompere con il suo storico fidanzato, Alfonso D'Apice, subito dopo l'esperienza a Temptation Island. Una decisione che ha lasciato il pubblico sorpreso e desideroso di scoprire di più su di lei. Dopo aver convinto gli autori e superato gli ultimi provini, Federica sembra determinata a portare nella casa del Grande Fratello un mix di sincerità e personalità forte. Napoletana d'origine, la ventenne si è sempre mostrata autentica, anche nei momenti più difficili della sua vita sentimentale. Attualmente, il pubblico è curioso di vedere come si relazionerà con gli altri concorrenti e se l'esperienza del reality le offrirà nuove opportunità per rivelare aspetti inediti del suo carattere. Ma prima di continuare, aspetta un attimo. Ti piace il video? Iscriviti, attiva le notifiche, metti un mi piace e lascia un commento. Il tuo supporto per me è prezioso. A Temptation Island, Federica ha condiviso emozioni e dubbi, fino a prendere la decisione di chiudere con d'apice. Tuttavia, è emerso che il legame con Stefano Tediosi, il single incontrato nel villaggio, potrebbe avere un futuro. Lei, al momento, si dichiara single ma non chiude le porte all'amore, promettendo che nella casa del Grande Fratello non mancheranno colpi di scena e, chissà, forse nuove scintille sentimentali. Sarà interessante vedere come Federica affronterà le sfide del Grande Fratello e come gestirà le dinamiche interne, ma una cosa è certa, il suo ingresso è già uno degli eventi più attesi di questa edizione. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.